Buonasera e bentrovati su Ring di Telequattro. Il titolo di questa sera come vedete già in sovraimpressione è parecchio ambizioso, tutta la verità, da qualche parte bisogna partire dopo i verdetti elettorali, cercheremo di andare a stuzzicare gli ospiti in studio su quelle che sono le verità, il detto e non detto, il dietro le quinte di questa campagna elettorale e del dopo voto, il totogiunta ma anche la situazione all'interno delle opposizioni, anzi delle opposizioni. Come avete già capito questa sera vi tocca il sottoscritto perché Ferdinando Avarino l'abbiamo mandato a rifiatare un po' dopo le maratone elettorali, quindi visto che siamo sul ring si passa dal gioco di gambe e dalla perizia certosina dell'assestare i colpi di Ferdinando, detto Ferdi, ai pugni ignoranti del sottoscritto, peso massimo più per la panza che per l'acume politico, ma insomma così sarà questa sera. Quindi tutta la verità, cercheremo almeno di grattare la superficie, vediamo se poi ne esce naturalmente qualcosa. Come vedete già dallo studio, se andiamo sul totale, ci rendiamo conto che le cose sono cambiate se mettiamo un totale, perché altrimenti sono sempre qua io. Perché alla mia destra ho la nuova maggioranza, a sinistra ho le nuove opposizioni, li vedete inquadrati, Roberto Treu, Paolo Menis, abbiamo naturalmente poi Gianfranco Orel dei Verdi PSI, Roberto Treu del PD, Paolo Menis del Movimento 5 Stelle, alla mia destra Piero Camber di Forza Italia, Carlo Grilli della lista di piazza, Danilo Sloker della Lega. Grilli possiamo già chiamare l'assessore? No, oggi mi è arrivata la letterina di consigliere. La letterina di consigliere, quindi per il momento no, ma sicuro consigliere. In piazza ci possiamo, mi sa che ci fidiamo, vediamo poi cosa succederà. Allora, come detto, domande scomode per tutti, mi sa che già dopo il primo giro mi odieranno tutti quanti. Parto da Roberto Treu, non per il discorso dello sconfitto, ma per un discorso molto da ring, nel senso che Roberto Treu è stato un abituè di Ferdinando Avarino in questo salotto. E si dice, anzi più che si dice, che insomma veniva mandato a ring a tenere botta perché era uno dei pochi che oltre a approfondire gli argomenti, a poter reggere in tutte le situazioni, avere una certa empatia, era l'uomo giusto per tenere botta a ring quando a Danilo Slokar parte l'embolo, quando arrivano le accuse, insomma era l'uomo giusto. Allora, qualche sassolino dalla scarpa da levarsi, visto che alla fine quando c'era Maretta arrivava Treu? No. E gli altri non si esponevano? Insomma, credo che sia stata una votazione collegiale di volte in volte di scegliere… Più onori che oneri, dice. Beh, certamente più onori, insomma il dibattito anche perché qualche volta è un dibattito anche molto focoso, diciamo così, con difficoltà anche di poter esprimere fino in fondo un ragionamento, si chiama ring apposta, poi non è che si chiama salotto Vespa, ecco. Si chiama ring e credo che questo sia un elemento che rende magari alcune difficoltà, altri tipi di personalità, altri tipi di esperienze. Non avevo male, ne ho fatte di esperienze sindacali e di ring, ne ho fatte tanti in termini veri sulla discussione, sulle trattative, per la tutela delle persone, per i loro diritti, per cui insomma, avendo di fronte e di volta in volta imprenditori di diversi livelli e di diversa capacità e sensibilità, ma anche sull'esperienza internazionale, un po' mi ha aiutato. Però torno a ripetere, è stata via 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 una decisione un po' collegiale su chi era più opportuno… Non le ha dato fastidio che dopo il ballottaggio, il consiglio comunale, io tra l'altro ero in collegamento, quindi ero lì tutto il tempo, alla fin fine, oltre a Cosolini, c'eravate lei e le Martini, tu le Martini, perché gli altri, i tecnici, sono scomparsi. Beh, credo che erano un po' delusi, se ne sono forse anche andati a riposare o comunque a smaltire un po' di consolazione, insomma, noi ci sembrava giusto, mi sembrava assolutamente giusto e doveroso andare a fare le congratulazioni del sindaco, perché comunque il voto dei cittadini è un voto democratico, è importante, l'opinione dei cittadini attraverso il voto è quello che conta, alla fine è un po' come una supponenza ulteriore, il fatto di… Non metterci la faccia? Non metterci la faccia, io reputo Roberto Treu una gran brava persona, Roberto Treu c'è sempre, Ma devo dire la verità, lui e la Tamara Blasina ha ancora due persone, ma per quanto riguarda tutto l'organigramma della gioiosa macchina da guerra, non c'era più, erano già in ritirata da qualche… Danilo, ho visto che se già era l'attacco, non abbassare la guardia? No, non è un attacco, è una postata azione. Zocca, ma con Roberti siete tornati amici? Certo. Grandi abbracci sotto il comune? Ma in realtà io devo dire la verità, come dico la vera verità, perché c'è la verità e la vera verità, io dico la vera verità, io credo che Roberti in questo ultimo anno ha fatto un percorso personale veramente, veramente importante e credo che per tutta una serie di realtà è veramente un'altra persona, ma questo qua non lo dico io, lo dicono un po' anche tra l'altro i suoi familiari, quelli che lo conoscono meglio. Quindi non negli che insomma, non è che proprio eravate vicinissimi qualche tempo? No, noi siamo in un partito come in tutti i partiti ci sono determinate situazioni, ci siamo confrontati più di una volta, però al di là della politica… Quindi da questa crescita viene fuori anche la… Ma Roberti è stato veramente… Quelle campioni di preferenze. Ma sì, perché l'umiltà che ha lui posto nel andare a parlare con la gente è stata veramente da prendere da esempio, perché lui è andato per le case a parlare con la gente, a affrontare tutti i problemi, oltre ad avere il partito sulla schiena, oltre ad avere una famiglia, ha avuto pena la seconda bambina, credo che si è veramente… ha messo veramente non la faccia il cuore e tutto quello che aveva. E quello che va detto che è stato secondo me un grande anche mediatore nella situazione di un'elezione che era comunque complicata, perché arrivavamo sicuramente non uniti nel periodo preelettorale. E siamo riusciti a fare una bellissima squadra, dove che hanno corso e remato tutti quanti nella stessa maniera. Allora, vado da Piero Camber, perché? Perché durante questa campagna elettorale, ma in realtà non tanto a partire dalla campagna elettorale vera e propria, ma già dalle primarie del PD, uno dei babau della campagna elettorale, dalla parte dell'opposizione, a partire da Francesco Russo, sino agli articoli del piccolo, era il nome di Marina Monassi. Sembrava di essere il Frankenstein Junior, di sentire Frau Blucher e i cavalli per il centro-sinistra, per gli articoli che sono usciti. Allora, mi vede a pensare, siccome è stata al centro di mille articoli, indiscrezioni, eccetera, lei si sente di escludere Marina Monassi in giunta o con qualche incarico? Te lo dico onestamente, non se ne è mai parlato. Quando non sai cosa dire, tiri fuori argomenti veramente di pura fantasia. Mai, mai, mai parlato. Era un mantra però, no? Ma no, ma quando non sai, ripeto, come attaccare l'avversario, te le pensi tutte, te le studi tutte. Mi viene in mente l'articolo di Rumiz, patetico, che ha scritto negli ultimi giorni, dove alla fine il voto gli ha dato completamente torto. Credo che porti un po' di sfiga, dire il vero, da come si nuove. E quando lui dice, vinceremo, vincono gli altri, per fortuna, nel nostro caso. Parlava di poteri forti nostri e il piccolo, fino alla domenica mattina, il direttore scriveva, votate, votate, votate per chi volete, votate come volete, ma non votate per la destra, senofo, barazzista, fascista. Ecco, questo era l'ultimo giorno proprio di campagna, quando era vietato. Non ci sarà? Ora, io onestamente credo di no, ma non se ne è mai parlato, ripeto, no, se ne è mai parlato. Noi il tavolo l'abbiamo aperto, o meglio, l'aprieremo, perché adesso Di Piazza ha preso possesso del municipio in questi giorni, è giù che lavora dalla mattina alla sera, penso che abbia già dato dimostrazioni malampanti, oggi è da pieno di articoli, sullo stesso piccolo che non riesce a intervistarlo, che citano situazioni in cui lui è intervenuto e chi sta risolvendo, ma cose facili, potevano risolverli anche noi. Dopo le vediamo, continuiamo in questo giro un po' pepato, Menis Radio 5 Stelle dice abbiamo sprecato il miglior candidato che avevamo anche in prospettiva futura per regionali e quant'altro, non commetteremo più questo errore, abbiamo sprecato Menis. Non c'è stato nulla da sprecare, ho dato la disponibilità a candidarsi, abbiamo fatto una campagna elettorale, è mia seconda candidatura, farò 5 anni in consiglio comunale, poi ci saranno altre persone, questo è lo spirito del Movimento 5 Stelle, abbiamo il limite giustamente, secondo me, dei due mandati per evitare poteri che si concretizzano e che si consolidano nel tempo, è giusto dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare attivamente alla vita pubblica, poi tra l'altro questo non esclude che una persona dia disponibilità anche dietro le quinte, non solo come portavoce del Movimento 5 Stelle. Non le dà fastidio che altre, non posso dire personalità, perché erano quasi sconosciuti prima, nel 5 Stelle sono andati in Parlamento, poi sono usciti dai 5 Stelle, altri sono andati in Regione e praticamente non sapevamo nemmeno chi erano, mentre sul palco di Beppe Grillo ancora dieci anni fa, qualcosa del genere, c'era Menis e Patuanelli. No, ma questo fa parte del fatto che il Movimento 5 Stelle è un movimento che è nato nel 2009, è nato nel 2009 e nel 2011 proprio a Trieste, ricordo, non sapevamo neanche se riuscivamo ad entrare in Consiglio Comunale, poi c'è stata un'evoluzione fino ad arrivare al 2013 ed è chiaro che sono entrate molte persone, la prima esperienza politica, tante ovviamente hanno fatto purtroppo delle scelte diverse, ma credo che questo nel medio-lungo periodo comunque pagherà il Movimento e credo che anche i risultati che abbiamo avuto in queste elezioni amministrative siano stati molto buoni a livello nazionale, quindi sta pagando anche le scelte che il Movimento 5 Stelle ha fatto di regole al proprio interno. Allora, lista di piazza, Carlo Grilli qui nel salotto di Ring con il tavolo in quell'occasione in un one-to-one con Navarino, di piazza ha detto chiaramente Grilli e Rossi saranno sicuramente i miei assessori, poi ha fatto la battutaccia, insomma che uno deve farsi l'operazione per diventare donna per le quota rosa. Abbiamo scoperto che Giorgio Rossi non la farà, quindi di conseguenza... Lasciando perdere le battutacce, come è ovvio che sia, a centro-sinistra, a radio centro-sinistra dico io, dice ecco arriva la minestra riscaldata, come risponde? Io prima di tutto lascerei che il sindaco di piazza in questo momento sta prendendo posizione, sta prendendo visione di quello che è la macchina comunale che lui conosce perfettamente e con la quale ha già dimostrato già da questi primi giorni di operare in maniera pratica. Per quanto riguarda la squadra degli assessori, credo che farà le sue valutazioni, io credo che ci sia bisogno di un governo delle città forte, una squadra dell'esecutivo che effettivamente lavori in sinergia, che si crei per una situazione di assoluto possesso della macchina comunale e che insieme poi si possa operare. Io credo che in questo momento di piazza starà facendo un ragionamento e quindi poi si attornerà delle persone a cui lui darà la sua fiducia. Poi ovviamente vedremo il tutto giunta con gli ultimi aggiornamenti. Premetto a Orel che gli arriva la battutaccia e che sta girando in questi giorni, ma credo sia abbastanza preparato. In Consiglio Comunale diamo un attimo uno sguardo a quello che è la situazione, perché ci sarà la maggioranza, quindi ovviamente Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega, la lista di piazza. Ci sarà una duplice opposizione, da una parte il Partito Democratico con due consiglieri comunali aggiunti esterni, ovvero Maria Teresa Bassaporo e De Gioia per i Verdi PSI. Poi l'altra opposizione, Movimento 5 Stelle, sei consiglieri, quindi una bancata del Consiglio Comunale. Allora la battutaccia che gira è quando arriva di piazza a fare le dichiarazioni programmatiche in Consiglio, non è che se De Gioia si distrae vota la fiducia. Penso proprio di no, voglio dire, così la politica socialista che è stata fatta in questi ultimi tempi. Sì, ma non ha De Gioia. Non ha De Gioia. Ma poi De Gioia ha fatto bene di insomma… Ovviamente, insomma, per chi non segue la politica nostrana… Ma De Gioia è arrivato qualche anno fa. No, no, De Gioia, no, per piacere. No, da noi intendo dire. No, non offendiamo l'intelligenza delle persone che si guardano. No, no, ma che agente lo sa. Perché credo che è una presa per i fondelli, per il mondo elettorale di Trieste, guarda, che è incredibile. Lui bravissimo, ma viva Dio, voi, anche voi, l'avete preso di nuovo. Ma io, noi non abbiamo preso nessuno. Diciamo che è saltato dall'altra coalizione. Io, è il direttivo del mio partito, non ha il potere di chiudere le porte a nessuno. No, no, certo. Se qualcuno si presenta in maniera francescana, vorrei essere fuori di metafora. Se uno dice torno nella casa madre, io dico va bene, accomodati. Io francamente credo che… Poi sta nel proprio animo, nel proprio io, sapere quando si fa bene, quando si fa male e quando si fa pure delle righe. Per cui noi abbiamo colto Roberto De Gioia come vecchio socialista, dopo aver fatto un percorso… A me francamente Roberto De Gioia, oltre che essere simpatico e adesso un amico, va detto anche che sotto l'aspetto politico, organizzativo, per me, per la Lega è stata una perdita, sotto l'aspetto organizzativo, sotto l'aspetto invece morale… Diciamo che dei voti, dai. No, 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 ma voi non potete basare sempre tutto sui voti. Non è solo una questione di voti. A un certo punto, secondo me, va anche detta una cosa. Le persone devono comportarsi in una determinata maniera se vogliono guardarsi allo specchio al mattino. Questo va detto, no? Cioè, io penso, nel momento in cui De Gioia ha lasciato il Consiglio regionale e aveva finito per certi aspetti la sua carriera… Scusate, era Forza Italia. No, era Forza Italia. No, 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 ma era anche autonomista. Settiamo ora, sentiamo ora. Anche autonomista. Vabbè, però, anche adesso… Non per niente è stato sputtanato. No, è anche amico, grande amico. Dai giornali, dei mass media, eccetera. Grande, grande sostenitore. Voglio dire, tre u, prego, mi pare. De Gioia è il tema della serata. Riprendere, riprendere… Io ho detto che arrivavano le gambe. Riprendere questo argomento dal punto di vista personalistico mi sembra un po' pochino. No, sa quel problema? No, sa quel problema? Rispetto al nostro incontro. Che se uno legge il giornale… Beh, ma l'avete sputtanato abbastanza, non mi pare. Ma l'ho sputtanato. E abbiamo detto quella che si spera sia la verità, dopodiché ognuno si fa la sua. Treu. Ho fatto un suo percorso e è importante il risultato comunque significativo che ha preso il partito. Cioè questa copiata, diciamo così, è stato un risultato in tutto quanto importante per essere una cosa appena nata e credo che sia un dato simpatico. Vorrei aggiungere solo una cosa sul fatto del trasformismo di Sessio. Noi dobbiamo dire che la nostra giunta era fatta tra cinque uomini e cinque donne. Sì. E anche nel Consiglio Comunale, ma anche a Ring, dicevi, moltissime volte sono utenti. C'era forse una presenza maggioritaria di rappresentanti del video dell'area donne che uomini. proprio perché in realtà questa presenza e questa autorevole capacità di assumere leadership e di essere riconosciute come punti di riferimento... Da voi però riconosciute, non dagli elettori, da voi. Abbiamo visto anche i voti che hanno preso adesso. Se un elettore prende 900 voti, 700 voti, chiedo scusa, se prende 700-900 voti, io credo che sia un dato di riconosciuto. C'è da dire però che la leader di preferenza è Fabiana Martini, che era l'assessore più isolato della giunta comunale. Ma perché stasera ci sei tu e il PD non ha mandato la donna? Perché l'Antonella Grimm doveva andare alla direzione nazionale che c'è, sembrava giusto che ci fosse pure la segreteria. Altra persona però, se interroppo, che però ci mette la faccia. Si è prevenuta come la Formulari, come gli altri, insomma, non è che sono... Vabbè. Cioè, le voglio dire che noi non abbiamo avuto in giunta questa difficoltà, Roberto Cosini, nel costruire una parità esatta, 50% uomini e 50% donne, e anche nell'elezione del Consiglio Comunale complessivamente intesa la coalizione, quella che ha, in particolare poi il PD, il più alto numero di donne all'interno di lui. Scusa, ma chi ti ha detto che noi abbiamo difficoltà? Adesso, le battute si fanno e ci ridiamo sopra insieme. Ma qualcuno ti ha detto che abbiamo difficoltà? No, non credo, proprio non credo. Io non credo. Io spero per voi, ma ecco, voglio già dire, già parlate però di quattro donne. Perché vuoi dire che la donna è una difficoltà? No, l'ha detto di piazza, mica l'ho detto io. L'ha detto di piazza, scusa, hai detto quattro, noi abbiamo cinque. Sono quattro i partiti, sono quattro i partiti. Sì, ma le donne dovrebbero essere al 50%, sarebbe significativo. Allora, prima di tutto io nelle leggi panda non ci credo, non mi piacciono, non mi sono mai piaciute riservate. Non piacciono neanche a tante donne. Donne è vera, faccio un esempio. Donne è vera. Alla poro patto non piace. Alla poro patto non piace. Alla poro patto, Alessandra Savino, coordinatore regionale del mio partito, non piace. Tanto per dire due no. Ma c'è opinioni, come sempre, diverse. Tanto per dire due no. E legittime, normale, ma le opinioni diverse. Siccome sono quattro i partiti della coalizione, abbiamo detto 1-1-1 sicuramente. Sicuramente. Dopodiché le indicheremo. Ma non abbiamo ancora parlato di noi. Ma ecco, se mi permetti, è l'approccio che è diverso, se mi consentito. Ma è perché ha fatto la battuta suve usci, sui mili. No, 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 non facevo. Non è che la fortuna, Viero. Viero, non la facevo su questa, sul modo in cui anche tu hai affrontato questo tema. Cioè, la logica di dire, allora, ognuno mette una donna, cioè spetta uno il comito di mettere una donna. Cioè, come dire, ognuno si deve fare carico di mettere una donna. il ragionamento è diverso non so se mi spiego, non è che si dice ognuno mette un uomo e poi vediamo, dice bisogna mettere i bravi, quelli bravi allora visto che abbiamo parlato di questo non voleva essere un attacco ma sai che le battutacce si sarebbero arrabbiati tutti, serve per questo voglio dire, è questo voglio uscire un momentino da queste come devo dire prima da questa persona fare un momentino a ribadire quanto è stato il senato da 3 euro voglio dire, vabbè e che vi devo dire, vedete gli sms sono liberi si può scrivere quello che si vuole, prego cioè volevo dire che al di là di questo fatto così personale vuole dire che la nostra lista è opportuna avete incontrato consenso tale da portarvi abbiamo incontrato consenso che ci ha premiato poi ragioneremo anche perché De Gioia è un uomo del popolo ragioneremo poi anche del fatto, del perché, del punto di domanda perché le liste di sinistra e comunisti non ci sono più e quindi poi ragioneremo anche di questo però siccome tanto abbiamo parlato di Toto Giunta ma poi c'è anche il discorso del Consiglio del Presidente del Consiglio Comunale vediamo il Toto Giunta aggiornato proprio di giornata il servizio che abbiamo riaggiustato ovviamente viste gli ultimi anche annunci del neosindaco sentiamo Al primo di luglio sarà presentata insieme con la coalizione dopo aver discusso con la coalizione al primo luglio Il DIPI ci scuserà ma noi il Toto Giunta tocca per contratto e allora partiamo dalla composizione pensando a dieci assessori quattro di Forza Italia e uno di Fratelli d'Italia quanto ai restanti cinque visto il risultato elettorale è probabile che tre vadano alla lista di piazza e due alla Lega che però ha il vice sindaco almeno quattro dovranno essere donne in ossequio alle quote rosa Per Forza Italia è quasi scontato citare Piero Camber e la campionessa di preferenza Emanuela Deklic resta da capire se l'uomo d'aula per eccellenza che potrebbe preferire il percorso più puramente politico in vista delle regionali e il volto in rosa del centrodestra non preferiscano rimanere in consiglio Ecco allora i nomi forti di Maurizio Bucci possibile il suo ritorno al turismo Michele Lobianco già nelle precedenti giunte e Lorenzo Giorgi sul fronte femminile c'è l'esperta Angela Brandi già assessore in comune e in regione I primi tre sono certamente nomi coerenti per portare il dipiazzismo negli assessorati caratterizzati cioè da quel saperci fare con la gente diametralmente opposto all'atteggiamento dei tecnici della giunta Cosolini che stando a risponso delle urne non ha pagato Se per il vice sindaco è scontato il nome di Pierpaolo Roberti con delega alla sicurezza i nomi buoni per la seconda casella se di due posti si tratterà sono Federica Seganti o Serena Tonell avvocato già nello staff della collega leghista in regione per la lista di piazza invece Per esempio nella mia lista Giorgio Rossi e Carlo Grilli che sono il presidente e la persona Carlo è una persona straordinaria che ha fatto delle cose straordinarie nel sociale nel sociale è chiaro che sono le due persone che saranno i miei assessori Serve un po' di inventiva sul fronte femminile si parla di Barbara Daltoè ma serve ancora un nome Fabio Scoccimaro è chiaramente in lizza per Fratelli d'Italia visto che peraltro l'avvocato Claudio Giacomelli probabilmente non potrà essere della partita per motivi professionali Resta però il nodo Quoterosa e allora ecco che spuntano i nomi di Federica Verin o in alternativa Elisa Lodi Tra i nomi forti di Forza Italia che sono comunque troppi per i posti in giunta piuttosto che fra uno del duo civico di Piazzista potrebbe spuntare il nome del presidente del Consiglio Comunale in questo senso le capacità di dialogo e moderazione di Lobianco sono forse le più indicate ma è solo un'ipotesi quanto all'idea che lo scranno più importante del parlamentino possa invece andare a Paolo Menis il candidato sindaco escluso dal ballottaggio che assieme ad altri 5 grillini siederà in Consiglio non appara al momento una strada percorribile per le logiche di partito ma come vice è certamente in pole position infine si parla del famoso uomo collante con Bruxelles per le politiche europee fra i nomi Decio Ripandelli dell'ICGB e l'ex coordinatore dei giovani di Forza Italia Marco Gombacci ma più che un assessorato potrebbe trattarsi di una consulenza Abbiamo visto nomi, facce, volti parto in maniera un po' diversa da Menis che dicevamo tanti hanno detto potrebbe fare lui il presidente del Consiglio Comunale poi sentiremo Di Piazza che dice non mi fido non credo non credo proprio di solito il ruolo di presidente del Consiglio Comunale viene assegnato a un esponente della maggioranza anche perché viene inserito nel calcolo delle quote a disposizione Ma lei piacerebbe? Beh Viaggio tra il tuo e lei scusatevi ma ci conosciamo tutti Lo farei volentieri ma credo che sia un'ipotesi da escludere perché è sempre successo che il presidente del Consiglio è un uomo della maggioranza è sempre stato così adesso da questa consigliatura c'è l'obbligo invece di fare in modo che uno dei due o il presidente o il vicepresidente sia dell'opposizione quindi quello forse il suo ruolo del vicepresidente sarà più fattibile ma non credo che questo sarà comunque un problema o sarà comporterà dei problemi a maggioranza dell'opposizione anche perché il ruolo del vicepresidente è marginale è marginale dice ora lei dall'esterno come la vede che ha visto tutte queste facce questi nomi del passato del presente mai sentiti cosa dice? Ah io la vedo bene bene qua si parla a livello di competenze non ciò voglio dire siamo anche ottimisti un momentino è di là che abbiamo parso come centrosinistra però voglio dire è sempre una elezione amministrativa si tratta di amministrare bene la città si tratta anche il nome maggioranza e opposizione un po' così un po' azzardato opposizioni sono due un po' azzardato quindi conferma anche lui nel senso che il governo di cinque anni era un malgoverno nell'amministrazione non farmi dire le cose che non avevo detto io sto dicendo io sto sottolineando il discorso amministrativo è amministrativo significa amministrare la città allora se uno non deve guardare con ottimismo anche se ha vinto il partito avversario fare il bene della città non veda cosa stiamo a fare qua ok premettendo che il totto giunta è un po' il calcio al mercato della politica ci sta tutto in questi servizi all'inizio certe sono indiscrezioni certe sono cose diciamo probabili impossibili altre sono come dire possibilità che anche noi lanciamo perché il nostro è il nostro mestiere Piero Camer il tavolo è totalmente aperto allora una battuta sul ruolo del presidente io ne ho visti alcuni ho visto Ettore Rosato che poi perse subito dopo le elezioni contro di piazza ho visto Sully che non venne neanche rieletto ho visto il povero Furnerich che non è stato rieletto e un ruolo un po' così pericolosetto che è Pacor no? e Sergio Pacor sì bravo cioè nessuno è una sedia che porta sfiga non è che porta sfiga è una sedia che ti ammutolisce ah ok cioè tu quando presiedi un'aula non puoi parlare più che tanto parli veramente non puoi prendere posizione no sei molto raramente in regione tanto per capirsi non votano neanche salvo la Boldrini beh vabbè la Boldrini che dà le medaglie d'oro agli assassini questo è un altro episodio però io ricordo Piero Camber le due interviste mi ricordo l'artista di Stato cinque anni e mezzo fa prima delle precedenti elezioni prima che fosse deciso Antonione prima che ci fosse la famosa candidatura Tononi ci ricordiamo quando si faceva anche il nome di Piero Camber come possibile tra i candidati sindaco e tu mi rispondessi a una domanda al microfono di un altro emittente per cui lavoravo dicendo io sono un uomo di squadra ricordi? sì confermo questo significa quindi che preferisci comunque ruolo diciamo così di consiglio magari da tuo gruppo? quello che la squadra ha bisogno sono a disposizione credo di poter fare ti metti a disposizione del ministro? assolutamente assolutamente credo che l'aula abbia più bisogno nel momento di start up nel momento di partenza più bisogno di te una coalizione ha bisogno di persone più bisogno di te di esperienza credo credo di sì sono un pubblico amministratore quindi non mi fa paura amministrare o fare l'assessore però altrettanto mi rendo conto che potrei avere un ruolo diverso in un'aula se posso condivido in pieno il pensiero di Piero in questo momento è chiaro che a sindaco appena insediato c'è la curiosità di vedere quali saranno le figure che ricopreranno il ruolo dell'esecutivo però è chiaro ed evidente che ci deve essere un collegamento molto stretto tra quello che è il rapporto tra il sindaco e l'esecutivo e l'esecutivo e il consiglio comunale perché in questo momento c'è bisogno di una macchina che cominci non a camminare ma a correre a cento all'ora perché non dobbiamo dimenticare che mentre noi stiamo qua comunque in via Mazzini ci sono ancora le file di persone che hanno bisogno del sostegno a reddito e a cui non viene dato ma perché c'è bisogno c'è forte bisogno che la macchina comunale cominci a correre per cui al di là dei nomi che ci saranno ci deve essere uno stretto contatto uno stretto collante tra quelle che sono le varie figure che compongono la macchina comunale non capisco di cosa parla Treu la parità dei sessi e la concorrenza libera viene premiata la bravura la preparazione non capisco le quote rosa eccetera eccetera quello che diceva Treu però in realtà prima comunque voglio dire Treu al di là del discorso donne che abbiamo affrontato mi pare che è un po' bruttino metterla giù così quindi al di là di questo nomi, facce che ha visto cosa le fanno pensare ci sono chiaramente dei possibili cavalli di ritorno delle persone di esperienza ci sarà sicuramente qualche novità lo vedremo Treu insomma parliamo sul sentito dire mi pare di aver capito e di aver inteso oggi ma lo dico in termini di riconoscimento che probabilmente avremo capogruppo lo dico probabilmente se interpreto le parole nel consigliere Camber per quanto riguarda Forza Italia ma Tony Petrasano voglio dire fa parte dell'equilibrio interno sono d'accordo con lui quando dice va composta una squadra ed è ovviamente se si gioca assieme meglio di tutto cercare di avere le pedine c'è le persone scusate non le pedine il posto che si ritiene migliore per svolgere il loro ruolo all'interno un consiglio comunale all'interno dell'amministrazione se per questo hai detto due battute uno sta retrocedendo con quella che era secondo me invece un errore clamoroso che avrebbe fatto di piazza nel momento in cui ha detto metto un assessore a Brissel secondo me si permette finita la campagna elettorale lo dico e la dimostrazione che non so come funziona Brissel e come funziona da quello che so non sarà un assessore ma infatti prendo l'atto con favore sarà un consulente un ambasciatore se lo chiamo ambasciatore insomma se non hai zuppa è un bagnato scusa fate l'appunta su quello che ha detto lascia fare attraevole opposizione dico proprio la Lega Nord la Lega Nord l'assessore Seganti quando è diventata l'assessore è andata a Brissel dove la regione ha e aveva il suo ufficio di riferimento e ha detto a questi andate a casa tanto è vero che le prime due persone siccome erano molto capaci in due ore hanno trovato sistemazione di grande prestigio a Brissel in due ore però l'idea era quella che non serviva non è che si può ricambiare ogni volta la pedina cioè già allora l'assessore regionale competente ha detto che non serve il vero ufficio di Bruxel ma aggiungo oggi l'ufficio di Bruxel se uno sa della regione non è solo c'ha come dire collabora con Grazia e poi una parte con la regione Istria proprio per e noi speriamo che io credo che quello lì non è un problema di essere lì quello che serve è creare le relazioni è cambiato poi lì c'è un punto d'appoggio chiedo scusa no perdonami chiedo scusa scusa chi è fuoco sa sul nascere il progetto no scusa no guarda te lo dico perché un poco ci ho bazzicato sa ma io ci ho vissuto ecco sai progetti sul nascere perché quando il progetto esce esce il bando il tempo è talmente breve che o se è già pronto oppure non parteci ma non è così no chiedo scusa non funziona c'è tutta una procedura che adesso lo sto qua a dire che ma te lo portiamo a spiegare da noi probabilmente è traspettato l'interesse quello che mi pare importante è che abbia capito sì una in effetti diciamo così la giunta di piazza precedente in 5 anni ha fatto 500 mila euro di progetti noi ne abbiamo adesso già avuti approvate oltre 7 milioni sono altri 7 milioni che spero siano approvate nelle prossime settimane e che la giunta di piazza potrà gestire ma tutti hanno progetti di piazza che sono tanti approvati no no scusa non c'è neanche uno di ripiazza mi dispiace scusami di queste non c'è neanche uno di ripiazza abbiamo fatto i miei tipi beh li vedremo comunque scusa chiudiamo che vi facciamo fare le ore io sono contento che alla giunta di piazza alla città diciamo così potrà usufruire partire da una e non come abbiamo trovato noi nessun progetto ma con progetti in essere tanto più che adesso parte e abbiamo avuto glielo dico perché se no dalla presidenza del consiglio il via libera con tre piccoli intocchi della costituzione del GEC che è questo gruppo comprensione rafforzata che va da Pola a Monfalcone Euroregione possiamo chiamare così sì proprio GEC si chiama gruppo perché questa è un progetto siccome parliamo di comunicazione bisogna far capire alla nonna a casa che si mette insieme tutto quello che era il bacino però vedi a Gorizia hanno fatto il GEC e non è ancora partito sto dicendo di me io io vorrei tornare per cui troverà un'opportunità di sviluppo dei progetti europei io vorrei tornare un momentino con i piedi per terra ecco torniamoci è stato fatto osservazione sindaco giunta consiglio collegamento giustamente ma io direi anche il consiglio con la gente si è parlato sempre di rioni che si è trascurata la periferia voglio dire se non ci si mette in testa di riprendere questo rapporto fiduciario dopo parliamo di Melara fra i consiglieri fra i consiglieri comunali diciamo quello che avete perso dire che questo ottimismo per cui in qualche modo è da me condiviso nel senso così disse l'ottamista un po' fantasioso anche su queste cose non capire un urano del corpo come diceva giustamente Carlo qua su quello che avete perso lo capisce avete perso nelle periferie ma è ovvio avete perso le periferie perché avete abbandonato la gente di Piazza ha già incontrato il comitato ognuno sa quello che ha fatto ma dico ieri ha incontrato puntualmente tutti i comitati poi ne parliamo un'ultima battuta poi andiamo anche con un servizio Menis vista il Totogiunta che impressione le ha fatto perché insomma 5 Stelle è naturalmente il movimento che porta volti nuovi non che necessariamente sia necessario che siano per forza nuovi o per forza giovani però il Movimento 5 Stelle ha questa visione guardando queste facce cosa le ha in mente ma intanto bisognerà vedere poi effettivamente chi sarà nominato in giunta e poi bisognerà vedere qual è la politica che gli assessori faranno insieme al sindaco quindi pregiudicare adesso sia prematuro dai nomi che si sono visti personalmente credo che nel passato abbia fatto bene il cui presente Carlo Grilli e conosco anche personalmente Federica Verin ed è una brava persona questo posso dire possiamo dire non so se qualcuno mi aiuta in questo che Grilli come dire era non lo dico perché qui ma insomma perché ormai penso che queste cose si possono dire come diceva Menis era l'assessore apprezzato anche dall'opposizione così come azzardo io adesso mi smentirete il duo Treu Krauss forse era quello apprezzato da questa opposizione io non rispondo sicuramente sì perché c'era dialogo nell'aggiunta è mancato l'aggiunta ho sbagliato nomi o ha un senso nell'aggiunta uscente c'era pochissimo dialogo Treu e Krauss persone che cercavano soluzioni ai problemi Krauss è stato un uomo messo lì poi intanto aveva già annunciato che avrebbe finito con questo mandato Treu da buon sindacalista è un uomo che sa discutere che sa ma posso fare una domanda solamente a Treu Treu è il primo dei non eletti giusto? Cosolini rimane in aula perché Menis ci ha detto che lui sui 5 anni li fa correttamente la domanda è se tu sai se avete parlato posso fare l'intervistatore penso che non abbia neanche Cosolini abbiamo parlato oggi come oggi penso che di fare il capogruppo cioè questo è la poi di verità ne abbiamo parlato che ero lì giustamente a fare il capogruppo e cercherà di fare l'opposizione poi le scelte della vita perché Pacorini non rimase Rosato rimase in alcuni mesi e poi andò via è una questione di carriera è una domanda no ma è una domanda se conosco Cosolini forse non c'è ancora non c'è ancora pensato forse sta facendo facendo altre riflessioni io volevo ricordare su Krauss è stato un assessore un raro assessore insieme a Montesano che hanno lavorato veramente in un contesto tecnico e non politico sì però Krauss era davanti la telecamera Montesano però la soddisfa però questa valutazione da parte degli avversari così come per Grilli nel mandato precedente sì io credo che beh sono in Grilli in effetti io non c'ero ma ho sentito l'opinione che ho sentito non solo perché qua perché sicuramente ma l'ho sentita anche all'interno dell'area c'era un riconoscimento credo spero ci sia sta e ci sarà anche per l'ex assessore Laura Formulari però sicuramente era considerato una persona insomma che aveva sensibilità una brava persona allora Ferdinando Avarino non c'è ma in realtà ci ha lasciato in eredità un servizio sulla situazione del PD sulla situazione del PD perché insomma in questi giorni c'è ovviamente Maretta Nere Onesra del segretario provinciale ha consegnato il mandato nelle mani dell'assemblea vediamo cosa deciderà mercoledì prossimo domani c'è una direzione nazionale posso dire c'è tutta la segretaria che ha rimesso tutta la segretaria giusto tutta la segretaria anche a Rosato non c'è ma è rappresentante di Trieste sentiamo cosa ci racconta Ferdinando in politichese si definisce caos nelle analisi giornalistiche resa dei conti chi pagherà cosa se il plenipotenziario romano Ettore Rosato è certo di evitare la tagliola di Renzi venerdì in direzione nonostante le centinaia di telefonate fatte con l'obiettivo di convincere gli elettori triestini altri tremano giocando lo scaricabarile nonostante i 30 gradi all'ombra di questi giorni nel partito di Renzi primo in città c'è una temperatura siberiana russa diremmo già perché il senatore che per tutti è il vincitore morale di questa sconfitta è riuscito a sciacquare i propri panni di grande avversario delle primarie impegnandosi al fianco di Cosolini nei giorni del ballottaggio infilando persino dei fedelissimi in quello che ora ha le sembianze più di un governo ombra il mainato tra gli assessori eventuali ci sarebbe stato infatti quell'Emanuele Mura a lui vicino eppure il senatore a ring ha speso belle parole mandando un forte abbraccio al sindaco sconfitto che stima sul piano umano come brava persona e gran lavoratore larga intesa all'interno del PD o una mossa da pacificatore che denota già le intenzioni di prendere la guida del partito in regione dopo l'inevitabile crollo dei giganti Deborah Seracchiani in primis che come sostiene Russo dovrà decidere tra Roma e la regione e poi Antonella Grim segretario in bilico come non mai l'analisi del voto si farà alla prossima assemblea che il segretario cittadino Nesladek pensa di convocare mercoledì prossimo facile intuire come sia incompatibile la presenza dei parlamentari impegnati a Roma Ennesimo tentativo di escludere una futura leadership di Francesco Russo resta un nodo ora che farà l'ex sindaco Cosolini c'è persino chi è pronto a dubitare che scelga di restare in consiglio comunale guidare l'opposizione democratica potrebbe optare per un'elegante uscita di scena nell'arco di qualche mese bene finale tra l'altro con questa pacca sulle spalle di piazza a Cosolini e poi naturalmente vedremo cosa succederà anche nel futuro di Cosolini io un'idea ce l'ho poi ve la dico Treu cosa pensa? Tanto l'assemblea è stata inviata venerdì che c'era un problema che riguarda un po' tutti i parlamentari non è un problema di russo un problema di tutti i parlamentari perché insomma ne abbiamo tre autorevoli tra l'altro uno è il capogruppo alla camera non è mercoledì prossimo mi è stata spostata venerdì ah è stata spostata ok mi è spostata oggi pomeriggio ah ok non è ancora confermato ma poi sicuramente qui nella notizia si si proprio perché volevamo fare un ragionamento ampio come l'ha fatto in caso qui l'ho fatta sempre tanto di più quindi vengono tutti ma credo di si ok Rosato è rosato è russo penso che lo sappiano non si parla ma insomma non si parla glielo dico io li ho visti ma guarda insomma ci sono nelle non si salutano quanto sono le amicizie personali no no non si salutano ho assistito la scena personalmente non so cosa fanno ognuno fa quello che vuole in termini di amicizia quando sono iniziato a fare il sindacato ricordo che il segretario generale a Cigeli mi ha detto una cosa quando entri in un'organizzazione trovi tanta gente come te colleghi compagni che si chiamano differenti però gli amici ti dicegli sempre per cui in realtà questa è una comunità fatta sempre da persone da individui che possono essere simpatici o meno possono andare d'accordo o meno io credo che la discussione sarà una discussione che ha due livelli sia quello nazionale che quello regionale e locale diciamo così domani ci sarà la direzione nazionale credo che questa è un'opinione mia insomma credo che sia giusto che questa infissione tocchi profondamente quella che è l'impostazione complessiva del partito se posso fare una breve digressione però riguardo un po' tutti cioè in tutta Europa e anche in Italia hanno vinto tranne se vogliamo De Magistris hanno vinto le opposizioni cioè c'è un forte voglia di cambiamento e di soddisfazione perché? perché credo che ci sia ed è rimasto ed è grave perché perdura da troppo tempo una situazione di una parte della popolazione di grande malessere di grande disagio questa crisi ha come dire non solo una statistica perché dietro le statistiche c'è le persone in cane d'ossa cioè che fanno la difficoltà a vivere penso che sono tutte le attore ecco allora probabilmente questo elemento non ha avuto una risposta di una politica adeguata né da parte dell'Europa né da parte dei vari governi e purtroppo neanche da parte dei governi italiani credo che la battaglia in questo va dato atto a Renzi come sapete non mi è non sono un fan di Renzi però va dato atto che ha aperto una battaglia politica in regione in Europa per cambiare i vingoli i bilanci e fare una politica di investimenti di aiuto sociale e credo che sia un dato importante leggevo oggi un articolo penso che sta dicendo delle fantasie che tutti quanta tutta la città e tutta l'Italia si è resa conto che queste qua sono solo fantasie perché se Renzi ha fatto perdere al PD tutta questa realtà di città se hai sentito cosa ho detto è che in Europa ma cosa fanno in Europa gioca col telefonino con voti scusa questo fai in Europa lui non si vede è finito la campagna ma non è che al paglia regolare scusa lasciami finire il ragionamento e poi dire la tua in Europa di fatto rispetto alla politica nel centro-destra ma dove sta parlando perché l'Europa è dominata dai governi di centro-destra la politica la fa il centro-destra a cominciare dalla Germania per capirci perché questo è quindi la colpa è nostra anche questo ma è un dato scusa ma questo è un dato come dire questo è un dato chiarissimo e come dire scusa finisco il tentativo si però si ma si mette a me è simpatico ma il dono delle sintesi no ma se non mette rompe se uno non mette rompe sono sentito ma abbiamo capito il problema è questo mentre c'è questo tentativo però sicuramente a livello nazionale questa cosa non è ancora stata sufficiente è significativo oggi leggevo sul giornale le notizie non leggere i giornali ci sarà 3 miliardi messi nella manovra di bilancio per affrontare le periferie e la povertà in più credo che sia un segnale non so se basta lo meno sono annunci sono i soliti annunci di Renzi credo che sia una cosa importante rendersi conto del perché di questa cosa Piero Camber subito dopo l'elezione di Di Piazza anzi a caldo in Piazza Unità mi ha rilasciato una dichiarazione dicendo Debora prepara le valigie allora come si fa però da una parte a prospettare le valigie e dall'altra parte di Piazza dice adesso con la Saracchiani bisogna lavorare bisogna portare avanti i progetti cioè i due binari sono paralleli e come dire bisogna tenersi su entrambi perché la città dipende sempre più la città dipende sempre più dai fondi della regione perché ricordiamo che adesso c'è c'è il comune c'è la regione la provincia tra l'altro oggi novità potrebbe essere prorogato il mandato fino al 31 dicembre alle province in modo che non arrivi il commissario insomma dopo ne parliamo comunque come si fa con questi due binari paralleli ma contrastanti un sindaco deve trattare col presidente della regione questo è ovvio e questo è un dato oggettivo poi c'è il dato politico hanno perso alla grande a Pordenone hanno perso a Trieste Gorizia e già nel centro-destra Udine ahi noi lì hanno altri tipi si ma no San Vito Tagliamento hanno vinto infatti nei comunicati San Vito hanno vinto 8 mila votanti li abbiamo vinto anche magari a Cordenone giusto per dirne un'altra più grande quindi è ovvio che Deborah Seracchiani è col piede sull'uscio io oggi ci farei quasi una scommessa che lei fra due anni non ricandida non ricandida non ci ricandida Menis perché il 5 Stelle qui non ha sfondato invece altrove insomma i risultati sono stati non importanti ma importantissimi ma è un po' difficile andare a individuare le cause del perché certo che ci siamo confrontati con due candidati sindaci che erano sicuramente più conosciuti del sottoscritto quindi era molto difficile e probabilmente noi siamo stati abbiamo avuto buon gioco qualcuno però potrebbe dire Menis tra i 5 Stelle è il più conosciuto della regione allora come la mettiamo per le prossime appuntamenti rispetto faccio comunque notare che rispetto ai comuni capoluogo di regione abbiamo ottenuto il terzo risultato in tutta Italia dopo Roma e dopo Torino in termini di percentuale è chiaro che poi è comunque difficile andare a scalzare persone o comunque candidati che sono sicuramente più conosciuti è stata molto brava la nostra candidata a Torino ha fatto un buon lavoro perché comunque vincere contro Fassino non era assolutamente facile qua io l'ho detto subito il giorno dopo ci attendevamo anche noi un risultato un risultato migliore purtroppo è andata in modo sbagliato perdonami a Torino e Roma con il sostegno del centrodestra sostegno il voto noi non abbiamo fatto accordi con il centrodestra non è con il centrosinistra non ho parlato di accordi però chiariamo quando vai al ballottaggio gli elettori tutti hanno detto in tempi sono sospetti se Menis va al ballottaggio con qualunque dei due dei Roberti vince Menis ci hanno detto un po' tutti è chiaro che oggettivamente per noi è più semplice se arriviamo al ballottaggio avere successo perché ovviamente ci collochiamo prendiamo dei voti sia dall'elettorato di sinistra che di quello di destra però è chiaro che poi bisogna bisogna arrivarci al ballottaggio approfitto scusa un attimo approfitto per fare due parole sulla sindaca sindaco raggi oggi una maleducazione istituzionale da parte della Boschi della Madia e del famoso Ettore Rosato che passando davanti a una presentazione non sono neanche deniati non di farle le congratulazioni ma nemmeno di salutarle sono dei grandissimi maleducati e saccenti come sono comportati alla fine della del dello spoglio delle schede grazie al cielo c'era Treu e la Tamala Blasim no la Martini la prima c'era Martini c'era Cosolini c'era si ma voi dovreste imparare non arrabbiarti lui intervistava dentro eravamo in aula prima quando c'eravamo al 49 51 c'ero io poi è arrivato Lobianco il centro-destra c'era pur essendo una situazione difficile perché chi si venga o chi si perde bisogna avere il coraggio di esserci la Martini è arrivata ben dopo l'ho salutata subito e l'ho ringraziata della sua presenza poi si è arrivata anche tu cioè io che quando giochi una partita è come una partita a calcio chi vince chi perde però ci si dà la mano che i nomi ci si dà la mano ci si è parlato tanto della l'ho detto lo stesso sindaco tante volte non abbiamo comunicato bene però adesso usciamo un pochettino di metafora nel senso non è che sia tutta tra virgolette colpa del sindaco se non si comunica bene e l'opposizione ha attribuito delle tra virgolette colpe ai non comunicatori non erano Treu, Kraus e della Martini quindi come dire gli altri però non c'erano lì questo era un po' il dato perché probabilmente ci ha avanti aiutato probabilmente anche di amarezza e di infezione e non sarebbe per di più giuro però non attacchiamo Treu che c'era ma no lui perché lui era presente io penso che comunque la espressione diciamo del partito una senatrice il sindaco insomma due assessori credo che sia la vice sindaco credo che sia poi c'erano anche altre persone perché c'era Barbo c'erano state anche altre persone presenti un consigliere circoscrizionale per cui credo però non sia questo se posso c'era un messaggio che è passato e diceva una cosa che dice ma la vera Vittorio Petriez sarebbe che destra-sinistra si adesso da fare assieme se lo sintetizzo c'è sempre anche 5 stelle perché qua ormai ti ragiono con le lecce logiche c'è sempre di destra-sinistra ma credo credo che intendesse dire tutti credo che era forse questo non voglio interpretare ma allora il problema ecco credo che questa questa amministrazione debba almeno per quanto ci riguarda noi faremo una posizione che vogliamo essere costruttiva attenta e ferma su alcune cose io ricordo che Di Piazza ha detto anche dopo la sua elezione che su molti progetti avviati da Cosolini ha riconosciuto l'importazione di internazionalità Porto Nuovo il Porto Vecchio alcune cose sulla ricerca tutta una serie di progetti strategici uso questi termini e credo che su questi progetti strategici credo che non ci sia e non ci debba essere da parte nostra se c'è nessuna preclusione a lavorare per ciò che questi vadano avanti e si realizzano ok Grigli due cose mi sento di dire la prima accogliendo subito le parole di Treo di adesso noi come centrodestra quando abbiamo governato amministrato queste città noi abbiamo dimostrato di saper dialogare cioè io credo di essere stato un assessore che ha dialogato anche con il centrosinistra cosa che in questa consigliatura non è mai stata possibile allora facciamo delle analisi facciamo delle analisi non ho sempre del nulla non ho del nulla io mi riferisco al fatto per esempio che i bilanci i bilanci sono stati i bilanci sono sempre stati portati al limite laddove non c'era più spazio per fare nessun emendamento che potesse essere il bilancio programmatico dell'altro anno è stato portato a settembre dite voi che emendamenti possono essere fatti tra ottobre e novembre abbiamo portato il bilancio quest'anno a una settimana dalla fine del mandato non c'era nessuna possibilità per l'opposizione di preparare nessun tipo di documento perché non sarebbe stato possibile portarlo avanti sul fatto della comunicazione io credo che la comunicazione va fatta quando c'è anche qualcosa da dire allora io credo che evidentemente non c'era molto da dire perché abbiamo moltissimi progetti ancora nel cassetto che dovremmo andare a riprendere che sono stati anche abbandonati dica uno beh lo dico uno la fondazione di partecipazione per le persone con disabilità ok allora progetto finito la famulare avrebbe potuto un mese dopo l'insediamento va bene fare la conferenza stampa l'hanno rigettato c'era stata la promessa la seconda credo il secondo consiglio comunale io ho fatto un appello non al assessore al sindaco ho ricevuto promessa solenne dal sindaco che il progetto se non sbaglio c'era anche tu e c'era anche Piero che il progetto sarebbe stato portato avanti è stato letteralmente abbandonato quello era un progetto strategico importante per le persone con disabilità questo è uno dei progetti che diciamo così eclatante ci sarà sempre nel passaggio di legislatura oggi c'era la notizia su Sado che la ristrutturazione è chiaro che giustamente con tratti piazza di questo ma è stato fatto prima ma è normale ma non si getta nel cassetto l'amministrazione comunale è un continuo uno comincia l'altro taglia il nastro un altro comincia e taglia ma non che uno comincia e quell'altro blocca si va avanti si modifica però c'è anche da dire che di piazza ha detto i nostri microfoni adesso non so se riesce a recuperare l'intervista di piazza ha detto occhio che ho detto ai dirigenti degli uffici di spiegarmi tutto quello che è in lavoro e di bloccare eventuali progetti che non funzionano la sua citazione era quella della pista ciclabile di Campelisi non vogliamo che capisano no ho detto poco ho riferito quello che ha detto di piazza 5 km creando danno creando danno alle gente su tutti i fondi europei ma lo dico a proposito di questo prego no se mi concede il pd si vada a parlare le concedo io vada ah no no è vero lasciam parlare Orel che l'ho massacrato in partenza poi ha avuto difficoltà a riazzarsi sull'inco allora niente voglio dire che questa faccenda per esempio di piazza che vuole parlare che anzi ha già parlato con i dirigenti il problema della macchina comunale è uno dei problemi voglio dire primario nel senso che considerando anche il fatto che il bilancio del comune di Trieste è un bilancio praticamente rigido nel senso che ci sono un sacco di spese fisse per cui rimane poco da distribuire un punto dove si può intervenire è proprio sulla struttura diciamo comunale e le mosse che ha cominciato a fare adesso il sindaco che è stato eletto recentemente mi lasciano qualche propresità su cosa? nel senso che individuare Terra Nova come il cane della guardia cominciare a parlare con i dirigenti Luca nella guardia ha lavorato bene per dieci anni è stato definito dalla stampa ma Luca ma la stampa si povera ma vai ma vai allora lasciamo lasciamo anche a ora allora diciamo Luca tu sei il re del linguaggio tu sei il re del linguaggio con il rito lasciamo anche a ora questo lo dici tu questo lo dici tu è un grandissimo professionale allora è mancato 140.000 euro l'anno adesso ma allora è mancato il segretario con 240.000 euro non è un feso essere cani no è cani da guardia un mastino dopo di che si sententa trovare altri cani da guardia presso magari i dirigenti che non sono venuti fuori da concorsi ma che sono stati così incaricati consulenti dice prego consulenti dice dirigenti dirige 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 perché qua si è perso qua si è perso anche poi l'abitudine di fare i concorsi pubblici si è perso l'abitudine di fare i concorsi pubblici servono i soldi però per fare i concorsi vietati in particolare tutti i cinque anni hanno vietati sì sì ma perché perché non c'è la possibilità e quindi i soldi alla fine sono comunque il motivo cioè non ci sono i fondi per poter fare ma è proprio il gioco delle certo comunque se vorrei finire il mio pensiero chiuda volevo chiudere in questo senso che molte volte più costruttivo incominciare dalla base e sentire quelli che sono i problemi che sono vissuti giornalmente dagli operai dagli impiegati eccetera e poi risalire fino all'alto piuttosto che cominciare dall'alto va bene pubblicità un istante poi torniamo per la seconda parte di Ring Rieccoci sul Ring di Tele4 allora ripartiamo per questa seconda parte di trasmissione andando a vedere quello che è successo sul fronte feriera non a Trieste ma a Roma con le dichiarazioni del Cavaliere Arvedi sul gruppo che andrà a creare presumibilmente rilevando l'ILVA vediamo se riuscirà l'operazione o meno e poi con le dichiarazioni del senatore Battista un attacco in realtà più che delle dichiarazioni sentiamo i due pezzi proprio uno dopo l'altro in fila più che un disimpegno sull'area caldo triestina dopo la recente pressione mediatica e politica in campagna elettorale le parole del Cavaliere Arvedi rilasciate oggi a Lanza fanno pensare invece a tutt'altro con il gruppo che dopo il risanamento dell'ILVA annuncia la volontà di tentare l'avventura in borsa il mio progetto spiega il Cavaliere prevede la creazione di una grande società che gestisca insieme ai siti di ILVA di Taranto Corneliano e Novi i siti arvedi di Cremona e Trieste si creerebbe una società davvero competitiva dice che potrebbe anche essere quotata in borsa questa società sarà aperta ad altri soggetti siderurgici italiani e potrebbe diventare la spina dorsale strategica per l'Italia per la produzione dei prodotti piani parlando sempre della società siderurgica da quotare in borsa Arvedi ha detto sarebbe una società capace di produrre 12 milioni di tonnellate di acciaio con un fatturato fra i 7 e gli 8 miliardi l'anno quanto all'ILVA ha detto ancora è unica perché ha delle verticalità dei suoi prodotti strutturalmente ha degli impianti importanti che si completano con Corneliano e Novi insieme alle nostre acciaierie di Trieste e Cremona si consoliderebbe quindi questa ottimizzazione dei prodotti Il Cavaliere ha indicato le operazioni che ha fatto presso la feriera di Servola io ho sentito di invitare il Cavaliere a venire a vedere l'abitato di Servola perché forse è la realtà che descrivono i suoi collaboratori o che cercano di nasconderli è ben lontano da quella che è la realtà anche il paragone che ha fatto lo stesso Cavaliere venga a vedere l'Inz eccetera ho detto lo vado anche volentieri a l'Inz però ho detto prima di tutto venga lui a vedere come stanno le persone come vivono le persone a Servola quello dovrebbe essere un suo impegno alla pari di quello che dovrebbe essere l'impegno della governatrice Seracchiani che secondo me a Servola non ha mai messo piede se non per andare a visitare la sede della siderurgica Triestina Allora prima le parole di Arvedi consegnate a Lanza poi le parole di Battista che attacca dal suo zero lui ha partecipato a questa commissione industria in cui rappresenta il Cavaliere Arvedi Menis più che un disimpegno dicevamo nel pezzo quello che dice Arvedi cioè questo gruppo che si andrebbe ancora più a rafforzare poi con l'idea di quotarlo in borsa conta invece su Trieste e conta sulla produzione anche di quella materia prima che poi serve della Cremona per quello che i tecnici di serurgica Triestina hanno spiegato che si tratta del ciclo dell'acciaio vero eh quella di Arvedi era una minaccia minaccia articolata con anche l'idea di entrare in borsa che a quel punto non puoi più fare niente lo cara e portavoce mi hai assunto come portavoce del gruppo grazie a parte le battute ma è chiaro che poi ogni imprenditore fa i propri calcoli la propria segue il proprio business il problema però è che appunto va fatto rispettando le normative da una parte e poi la vivibilità delle persone io credo ho letto le dichiarazioni ho sentito anche da questo servizio le dichiarazioni del Cavaliere Arvedi effettivamente mi sa o che effettivamente come diceva Lorenzo Battista prima i suoi collaboratori raccontano qualcosa di diverso dalla realtà oppure appunto lui non è mai venuto qua e non ha la percezione di come si vive a servo la situazione non è comunque migliorata rispetto non è migliorata rispetto a quanto era previsto e quanto era promesso cioè il fatto di mettere in sicurezza quell'impianto di produzione entro la fine del 2015 sappiamo benissimo che nei primi mesi del 2016 gli sforamenti ci sono stati e non si vedono ancora altri miglioramenti in quest'ultimo periodo e questo è il problema principale e quindi finché non ci sarà una messa in sicurezza una garanzia per i cittadini di vivere senza l'incubo di quella produzione di inquinamento bisogna prendere dei provvedimenti la domanda è anche un po' se questo grande gruppo che si va creando da quello che si è capito a livello italiano viene quotato in borsa questo complica ancora di più il futuro di Servola rispetto a una possibile dismissione piuttosto che rispetto a maggiori tutele ambientali qual è la vostra la vostra impulsione non cambia niente no no è chiaro che poi può complicare ma il problema è che questo questo settore produttivo questo business non sta in piedi se seguito da un imprenditore privato e questo questo l'abbiamo visto nel passato con diverse con diversi imprenditori con diversi con diversi manager e quindi non possiamo pensare progettare il futuro anche di Trieste non solo di Trieste ma anche di altre si è parlato di Ilva e di altre parti d'Italia pensando di sviluppare questo tipo di business mi sembra su questo siete due contro uno maggioranza parte dell'opposizione contro ci sono alcuni aspetti che sono secondo me secondo me sono veri l'Italia può rinunciare ad avere siderurgia io credo di no io ricordo quando si diceva che dovevamo rinunciare alla cantieristica oggi siamo leader mondiali poi bisogna farla che sia una siderurgia pulita e che pertanto questo si può fare perché questo esiste credo che sia innegabile ancora insufficiente ma sia innegabile che c'è un netto miglioramento della posizione tu non abiti il servo tu neanche però tu neanche mi difendo perché non posso accettare che facciano quello che fanno posso finire posso finire facendo morire le persone sono stati dieci anni di piazza prima che non ha fatto neanche un provvedimento e il benzo a Pirene era 6,5 ma non stiamo a parlare non voglio fare di questo parliamo di come si diceva dico che ci sono dei dati oggettivi che questo nel 9 di gennaio ha piovuto l'ira di Dio ha piovuto l'ira di Dio in questi mesi se posso finire per la presenza del territorio che questo non sia ancora sufficiente e che ci siano margini di miglioramento e innegabili poi come si è visto anche con di piazza perché poi si fa i conti con la realtà ha avviato incontri giustamente con le associazioni ambientaliste cosa che come è stato detto anche qui in televisione il sindaco Cosolini ha mantenuto in maniera corretta serrata e continua per cui questo dato c'è il problema è se si chiudono un'aria caldo perché questo è il vero quesito che ci si pone allora credo che come si dice l'aria caldo se rispetta i parametri previsti dall'AIA e lui ha 36 mesi per mettersi a posto perché questo è 36 mesi di salute alle persone vergognatevi vergognatevi il sindaco si deve vergognare tu 36 mesi 10 anni se ne fa nulla si pagano la salute alle persone scusa devi metterti uno specchio per 10 anni lo sforamento 36 mesi di AIA 36 mesi di AIA tu ripetati ti guardi uno specchio per 10 anni lo sforamento e non per questo noi dimenticheremo noi dovremo avanti e faremo chiudere l'aria caldo ma se vuoi parlare seriamente parliamo parliamo seriamente soffrite le elezioni basta dai se vuoi ragionare non riesco a capire per quale motivo voi difendete non riesco a capire per quale motivo difendete la feriera non riesco a capire un'altra cosa perché ci sono rosa la salute della gente prima prima la salute delle persone prima di tutto se mi consenti sono la salute di coloro che vi lavorano perché tu non abiti là che vi lavorano perché tu non abiti là 10 anni in cui di piazza non ha fatto niente e l'inquinamento era meno male che ha fatto cosa lì e ha dato l'aria alle regione meno male perché senza quell'aria la feriera veniva chiusa e senza l'aria e senza rimettere 140 milioni di euro vergognate vergognate la feriera aspetti un attimo tre volte Giugiano giustamente lei dice giustamente 10 anni di piazza non è stato fatto niente ma chi era rilasciato l'aria il signor costo di l'inquinamento era 20 per capirci l'evidenza delle cose per sventissi Grilli era in quella giunta perché di piazza è riuscito a fare niente allora io credo bisogna contestualizzare un attimino il discorso oggi abbiamo una fabbrica in città che sta in piedi soltanto attraverso un supporto del pubblico ed è chiaro ed evidente che in questo momento al di là di quello che è stato fatto prima al di là di quello che è stato fatto ancora prima oggi c'è una coscienza su questo tema che va affrontata io credo che questo sia uno dei temi che nel consiglio comunale bisogna trovare una forma trasversale c'era anche 10 anni fa ma oggi la città si è mobilitata noi dobbiamo prendere l'atto che oggi la città si è mobilitata quell'industria non sta in piedi da un punto di vista soltanto del privato ma sta in piedi soltanto con il supporto del pubblico quindi su questo noi siamo in linea assoluta a questo punto il sindaco di piazza ha già preso posizione con le però cosa cambia mi perdoni tra 10 anni fa adesso che potere in più ha il sindaco di poter cambiare la situazione la gente dietro allora io credo che oggi il sindaco si deve fare veramente portavoce di quello che è un'espressione della città oggi la città si è mobilitata e ha detto basta a questo punto io credo che ci siano evidentemente tra il sindaco della città lei si ricorda Tondo? Tondo a Servola se lo ricorda chiudere la feriera permettimi però io ricordo perché devo ricordare anche questo ma ricordo 10 anni prima come dire che le mentalità cambiano nel tempo mi ricordo un grande bracere in piazza Unità quando sembrava che la feriera chiudesse e ci fu un mega corteo guidato dal sindaco Illy guidato dal sindaco Illy dopodiché c'è stata un'evoluzione del pensiero e oggi giustamente la città dice basta nessuno discute l'evoluzione del pensiero però per onestà bisogna dire Tondo a Servola ero là con il microfono in mezzo ai Triestini la feriera la chiudiamo e poi scusa Tondo non era il sindaco di Trieste era più importante era più importante la Presidente solo che noi oggi ragioniamo in termini di costi benefici per la città la campagna Arvedi ragiona in termini di costi e ricavi loro hanno paura il PD di toccare il fattore ricavi del privato Arvedi diciamolo se credo se credo a voi non merga nessuna risposta a questa cosa qua ricordo per due volte di piazza hanno fatto la campagna elettorale perché ti è messo insieme dicendo che chiudeva la feriera e in più c'è stata anche la campagna elettorale e non ha fatto nemmeno un'ordinanza io vorrei ricordare nessun intervento no le ordinanze di piazza le aveva fatte ricordo di piazza Bucci Salotto Azzurro non dico per contestare ma perché ero lì ricordo di piazza Bucci che arrivava in Salotto Azzurro con l'ordinanza in mano e abbiamo fatto la legge sul benza Pirei le limite dell'1% di cui i primi firmatari c'era la collega Rosolè il sottoscritto Maurizio Bucci sul benza Pirei l'abbiamo fatta noi la legge regione non il PD non mi ricordo che sia la situazione degli abitanti di Servola e che vanno rispettati e che evidentemente vivono di un numero elevato di promesse e di disagio che continuano su questo non c'è il minimo basta vedere che Cosolini ha detto mantengo l'aria caldo ha detto Cosolini queste parole qua in prima delle elezioni scusa diciamo che però ha detto il coraggio ha avuto il coraggio di dire una cosa in popolare in popolare in popolare in popolare in popolare scusa secondo te secondo te fare dei danni alla propria cittadinanza certo è un lavoro di un bravo sindaco non è fare dei danni dicevo visto che siamo in tema è un problema di salute è un problema di salute è il sindaco che dovrebbe pensare alla salute dei suoi concittadini va a dire non chiudo l'aria caldo sapendo che quell'aria caldo provoca tutta una serie di problemi non so viva Dio ho detto esattamente questo non si rispetto i parametri ma il 31 dicembre dove la chiuda questa fermala Orel voglio dire che questo problema della feriara è stato uno dei punti che il centro-sinistra ha analizzato durante le due settimane di balottaggio è stato indicato questo problema come uno dei problemi critici è stato sollevato questo problema dicendo che la città è stufa perché sembra che si faccia uno slano la chiudiamo la apriamo facciamo questo facciamo quello evidentemente la popolazione non ha digerito questo continuo rimandare delle cose e mi ricordo quanto diceva Menis che evidentemente voglio dire non si può andare avanti di questo passo e una decisione deve essere presa ok allora siccome alleggia chiaramente lo spirito di Roberto Di Piazza perché abbiamo partato citato tante volte sentiamolo martedì ha parlato con Ferdinando Avarino qui nello studio di Ringo un one to one di un'ora sentiamo alcune delle cose più interessanti quella degli assessori l'abbiamo inserita nel servizio di Totogiunta sentiamo il resto è vero che ha dato le dimissioni ho dato le dimissioni sì mi sono appena stato eletto ho dato le dimissioni da consigliere regionale però che negli ultimi giorni chiaramente gli erano chiesto in tanti no ma sembrava guardate viviamo in un paese allora sembrava la cosa più drammatica che non dovessi prendere due stipendi difatti io avevo avvisato il dottor Lorenzo ho detto non faccia partire perché pensavo allora oggi mi sono seccato ho detto ho preso carta e penna ho scritto mi dimetto sono un uomo libero dalla regione perché i cittadini affronterò con serenità e con tranquillità però ci sono veramente problemi di sicurezza se saranno armati i vigili poliziotti 40 allora noi abbiamo mi chiedono noi abbiamo 300 poliziotti visto che fanno operazioni antidroga anche mi chiedono gli sms beh lei è dato su base volontaria però 40 su base volontaria anche perché se vogliamo io voglio sostituire un servizio notturno dei vigili urbani per fare questo però ormai bisogna armarli perché ero contro sempre queste cose però 40 40 ripeto su 300 280 quelli che sono io vado dal prefetto e dico signor prefetto io voglio fare molte ordinanze perché faremo tutte le ordinanze naturalmente io non voglio entrare in scontro con il prefetto allora dico io le mando lei se vanno bene me la valla mettiamo i graffiti metterò 10.000 euro ecco volevo chiedere quindi conferma che la porterà di nuovo la porterà a 10.000 non a 7.500 ma a 10.000 a 10.000 sui graffiti sono rifaccio galleria foraggi però blocco il traffico diventa un macello no 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 io no beh anche quella anche quella anche quella ma no galleria foraggi va fatta immediatamente menis kid voleva dire no no menis menis è una brava persona allora ma però sarà presente non lo invito al mio matrimonio no sarà presente il consiglio vediamo però ripeto non mi fido molti ancora su sostegno al reddito abbiamo risposto certo insomma potenziali cittadini la prima cosa ripeto stiamo lavorando lì perché bisogna sbloccare perché se allora innanzitutto devo vedere se ci sono i fondi e spero di sì però se ci sono i fondi bisogna liquidare immediatamente i mesi mancanti se la Seracchiani si è innamorata dell'Ursus e ha messo 5 milioni e mezzo sull'Ursus forse un paio di milioni sulla ginnastica di Triestina starebbero meglio guardavo ora sull'Ursus finale meglio 2 milioni la ginnastica di Triestina però sulla Seracchiani la Seracchiani sull'Ursus evidentemente ha fatto un investimento insomma penso di sì poi c'è la ginnastica che versa vorrei dire questa sui vigili urbani il fatto che siano normati 40 non tutti solo 40 40 ho capito però se è un problema che se ne parla da 20 anni 30 anni è vero cosa facciamo le diamo le pistole non le diamo che calibro no voglio dire non è che si risolvano le cose così con un progettino voglio dire bisogna addestrare il personale collegarsi con le altre forze dell'ordine è tutto un programma che io ho dei dubbi che possa essere attuato dal punto di vista pratico proprio e poi bisogna vedere scusa un momento no ma guarda ci sono i carabinieri ci sono la polizia c'è tutto ma cosa mettiamo ma noi gatti anche le macchine ma scusa un momentino e tu pensi che un paio di vigili urbani col pistolino in giro per i oli della città possano risolvere i problemi perdonami a Bologna in tante altre città rosse sono armati certi servizi certi servizi il capo pattuglia nei servizi a un notturno uno il graduato se che non è incorretto che ce l'abbia uno uno su tre il graduato comunque penso che questo problema debba essere risolto in collaborazione con le altre forze dell'ordine non è che possiamo non si preguitarla lì non è individuale perché siamo in una città dove c'erano scontri a fuoco non c'è stato ma sai il ragazzino di 16 anni che le ha spaccato la bocca l'altro hai sentito cosa è successo sul moglie a quarto no? si vabbè non è che c'è una cosa di andare a sparare ma se io se pensi che uno è la forza dell'ordine siccome c'è un due che si pestano gli spara ma sparo in aria no? dovrebbe essere però precisiamo dovrebbe essere un deterrente non è il discorso di risparare ma guarda ma anche i poliziotti quando vanno prima e tirano fuori la pistola ci deve essere proprio un elemento di conflitto assolutamente in 10 lo bastoneva e nessuno ha intervenuto allora va bene così no perché no ma va bene ma va bene così secondo te ma di cosa parla? ma no ma di cosa parla? i poliziotti entrano intervengono quindi va bene allora siccome la trasmissione ma siccome la trasmissione è teoricamente di tutta la verità sono un secondo ma con arma di restato non in manuale quando si parla di questi di questi concetti attenzione alla differenza grande sono un secondo siccome quando si parla di questi concetti alla fine si arriva su un discorso no? è ma i dati della polizia interforo dicono che in realtà allora mi permetto anch'io di dire tutta la verità il capo della mobile il comandante provinciale dei carabinieri di questore anche loro hanno dei capi quindi come dire venire a Trieste e come dire manifestare un numero crescente di reati sottolineando eccetera non è che faccia bene perché come dire anche il consigliere comunale del PD che viene qua al suo capo di conseguenza deve cercare di mantenere una certa linea una serie di fenomeni sono aumentati se si va a leggere dentro quei dati non se uno ti racconta come dire non dico una storia ma ci racconta una versione diciamo ufficiale dentro quei dati se uno va a vedere i furti negli appartamenti le rapine anche in casa e le truffe anziani che sono una piaga tarificante della nostra città c'è la composizione dei reati sicuramente esatto perché poi come dire anche noi facciamo si denuncia molto meno questo però premetto oggi perché la gente si premetto questo non è un discorso politico questo è un discorso di stare sul campo anni dopo anni avere i comunicati avere le analisi e poi confrontarle questo dicono i dati che in quei settori c'è un aumento della no 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 non parliamo di nazionale parliamo della provincia di Trieste ti dico che su questo c'è il fatto delle come dire rapine o truffe a casa rapine furti e truffe tra l'altro quel fenomeno delle rapine in casa cioè delle persone picchiate a casa loro derubate questo è il primo dato che c'è ti vorrei dire trasversalmente di aumento dei reati in tutta Italia mentre casano altri reati però c'è un effetto diciamo di una reazione l'effetto della conseguenza della crisi poi non è che lo giustifico ma è conseguenza dei clandestini e dei comunitari che siamo pieni questo è il problema perché i topolini già oggi il terzo il quarto il quinto topolino quanti sono non puoi più andare questa è la verità ci dobbiamo rendere conto di questo con me ero giovane Deve Tupolini sì ma non più finita la storia finita non contavamo se no il biglietto dell'autobus per tra ma anzi perché altrimenti mi sui ero sicuro non a caso è successo negli anni 60 meni su questo giustamente diceva giusto ora dicevo prima è un tema da cui si dibatte da vent'anni ricordo il presidente uscente del consiglio comunale furlani con le pistole ve lo ricordate il capello da cowboy da cowboy contro io penso che il discorso vada girato su un altro su un altro tema sono i vigili i vigili urbani e la polizia locale adatta ad avere in mano una un'arma chiaramente si tratta di per formarli io penso da quel poco che so sul tema che probabilmente convenga più rinforzare la polizia di stato i carabinieri piuttosto che dare però il sindaco non può farlo chiaro che non può farlo però può chiederlo come spesso hanno denunciato i sindacati di polizia presenti nel nostro comune nella nostra provincia ricordo che c'è stato un calo del numero degli agenti da fine anni 2000 ad oggi e quindi credo che sia più indicato chiedere un potenziamento di quel tipo di risorse piuttosto che dare in mano la pistola alla polizia alla polizia locale anche perché se come dice lei il come dici tu quei tipo di reati sono aumentati non credo che questi vengano diminuiti dalla presenza della polizia locale con armata ecco io credo che sarebbe più opportuno invece affidare questi compiti alla polizia alla polizia di stato e carabinieri che sono certamente più preparati per affrontare situazioni di questo tipo Grilli innanzitutto ci deve essere una formazione attenta e preparata su quelle che saranno poi le persone che volontariamente utilizzeranno questi c'è da dire che è chiaro chiedo scusa solo un secondo sono anche di età avanzata aggiungo su questo mi 10 e 15 anni allora io credo che ci deve essere invece un coordinamento tra quelle che sono le forze dell'ordine polizia, carabinieri guardie di finanza e polizia municipale oggi sul territorio non abbiamo necessità perché i dati ce lo dicono chiaramente cioè la microcriminalità la criminalità diffusa è aumentata la percezione si sente ed è chiaro e evidente che è un elemento di deterrenza questo è fondamentale quindi vedere un poliziotto che passeggia e che monitora quello che è un territorio sicuramente può essere da deterrente su quelle che poi sono fasce di microcriminalità che poi possono portare anche a episodi di violenza vediamo poi sugli anziani e sulle fasce più deboli ecco io credo che questo sia e guardate che ormai è presente in tutte le città siamo andati a Lignano ultimamente a vedere un concerto poi siamo in cipalle di notte e armata no? questo non vuol dire che a Lignano ci siano i pochi d'artificio c'è una giunta rossa no? allora non è che a Lignano ci sono i pochi d'artificio ogni santa notte non è che perché uno è armato comincerà a sparare all'impazzata no? è chiaro è una forma di deterrenza su quelli che sono ormai dei fenomeni rilevati da quelli che sono il numero della polizia e dei carabinieri che sono sempre con risorse minori a quelli che sono la possibilità di un comune di mettere a disposizione una forma di integrazione a quello che è un progetto di sicurezza nella città Grilli proprio su questo tema come si fa io ho usato il termine di piazzismo cioè a tradurre diciamo con quell'idea di uomo del fare o di assessori del fare nel concreto che sono tipici della mentalità di di piazza in un momento in cui ci si trova con gli stessi conti che avevano cosolini tre ue soci e quindi siano poche disponibilità perché di piazza assieme a Ferdinando Avarino non c'era nel pezzo ma dice ne assumeremo se si sono risorse ne assumeremo di nuovo i vigili urbani proprio perché l'età media e alta perché formare persone di 55 anni anche all'uso delle armi non è il massimo e così via poi però come dire dal dipiazzismo sulla carta al dipiazzismo nel concreto ovvero fare le cose è molto differente rispetto a dieci anni fa quando c'erano i fondi come si fa? si fa come ha spiegato prima Piero Camber cioè creando un asse anche con la regione fino a quando la presidente della regione ci sarà quindi creando un asse con la regione e con il governo centrale noi in questo momento abbiamo necessità di andare a rinegoziare tutti quelli che sono i fondi sia statali più difficili ma regionali sicuramente ma non sono posso aiutare no finisco io il discorso perché io credo che noi abbiamo la necessità di andare a rinegoziare proprio perché noi abbiamo penso al fondo sociale noi siamo legati da quelli che sono poi la costruzione dei servizi attraverso quello che è l'indicazione della regione ma Trieste è differente da quelli che sono le problematiche di Tolmezzo o di Cormons o di Udine è l'unica città e quindi io credo che abbia bisogno di strumenti differenti da quelli che sono il resto del territorio quindi andare ad avere un'autonomia di gestione del proprio denaro credo che questo sia strategico ed è la prima cosa che io farei domani mattina se fosse fattibile per la Saracchiani perché poi qua bisogna passare alla pratica no? infatti città me sì ti posso dire che quando si parla tra istituzioni si parla di solito tranquillamente su questo l'ho mai rilevato anzi ti dirò che è più facile parlare con istituzioni politicamente avverse che con istituzioni solebili però se la Saracchiani dici come dire io voglio questi fondi perché c'è questo problema di sicurezza perché voglio messere delle armi da Saracchiani come dire ribatte alla treu non mi pare che ci sia vorrei scusa la risposta però sta non è un problema di fondi in questo caso c'è un problema scusi che sia forse un problema di fondi però ce l'avete detto per anni ma adesso è cambiato scusa per il personale personale è un problema di blocco nazionale delle assunzioni ah in quel senso in quel senso che adesso faccio due esempi giustamente dopo che Camber ci ha dato atto noi abbiamo pressato alla giunta regionale perciò che ci consentisse di assumere almeno a tempo parziale le persone per erogare il segno a reddito perché è indecente inaccettabile ognuno di noi ogni amministratore si può che vergognare di fatto del fatto che tu fai una legge per aiutare le persone in difficoltà e poi queste persone in difficoltà che viene riconosciuto il diritto ma non ricevono i soldi credo che sia ma no ma proprio moralmente inaccettabile finalmente sono stati messi due milioni dalla regione proprio i giorni la settimana scorsa per fare queste assunzioni uguale credo che ci deva essere come è stato fatto come ci deva essere per le assunzioni si libererà dal primo di gennaio ma credo forse anche prima per fare per sbloccare le assunzioni e sicuramente nei vigi urbani ma non solo nei vigi urbani c'è necessità di implementare l'occupazione e di avere pertanto la possibilità di avere gente più giovane se ne ho sentito e anche come dire una presenza più adeguata sul tema io vorrei aggiungere in chiusura questa faccenda dei vigili bisogna anche vedere perché quelle sono le funzioni prioritarie che dovrebbero svolgere questi vigili voglio dire un esame di quelle che sono le funzioni all'interno del corpo non so se è stato fatto se non è stato fatto cosa devono fare questi vigili è giusto che vadano in giro in due eccetera passeggio pare eccetera i vigili di quartiere come la mettiamo questa faccenda ci sono tutte una serie di funzioni che andrebbero studiate nelle quali inserire eventualmente anche questo discorso qua ma non si può partire stiamo dimenticando ancora un altro problema molto grosso dal primo gennaio scattano le UT le unioni territoriali altro bel problema dove Trieste fa da capofila per Sgonico siamo sicuri che scattano visto che oggi la Seracchiani dice vogliamo prorogare le province fino al 31 dicembre solo dal 30 ottobre al 31 dicembre sono i due mesi per scattare uniformare di piazza ha detto che fa uscire dalle UT Trieste di piazza ha detto certo è scritto nel programma però la legge non lo consente no difatti perché c'è una legge campesta dice che una volta che entri per 10 anni non ci puoi più uscire allora Sgonico ha un vigile dalle 8 alle 2 sabato e domenica no ma questo è il suo orario allora noi i nostri dovranno andare a rilevare l'incidente a Sgonico ma se non vanno adesso perché dovrebbero andare oggi non c'è succede l'incidente a Sgonico chi va a rilevare l'incidente c'è una denuncia alla polizia commerciale di Lizia chi va ma non vanno a quelli di Trieste e chi andrà basta per il comune di Sgonico perché mi ha anche a capire basta un vigile dalle 8 alle 2 e questo vigile scusa ma perché adesso a Sgonico dopo le patologici non avvengono non avvengono e a San Luizio che le attreggono la fanno altre ma chi la fanno ma no perché sono i compiti della polizia locale sono i vari incidenti ma adesso non vale la polizia municipale allora sappiamo le altre cose anche le cose più normali due cose più normali commercio polizia commercio edilizia fa il vigile che era adesso io ero una persona e bastava no tanto è vero che veniva impiegato no ma non è così a San Luizio della Valle noi abbiamo a San Luizio poi lo riesco a Nicco perché sono il territorio con 5800 persone con due vigili tre 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 però in realtà abbiamo due perché per problemi di salute e altre cose abbiamo due soli bene oggi San Luizio della Valle ha un problema che poi non è solamente il problema di San Luizio della Valle perché con le leggi 38 i vigili di Trieste dovranno conoscere la lingua slovena spostandosi quindi dobbiamo mettere far sì che tutti i vigili o almeno quelli che si muoveranno fuori dal comune di Trieste dovranno conoscere lo sloveno l'unica pattuglia all'ottuna dovrà conoscere lo sloveno per capirci Grilli che sennò tra i due leoni non io credo che la prima cosa che il sindaco di Piazza dovrà fare sarà andare a rinegoziare questa situazione che ha creato problemi enormi già adesso prima ancora di nascere secondo me è una legge sbagliata che è nata sbagliata ma che è nata sbagliata ce lo dicono i 50 comuni che hanno votato conto ecco beh li avete ricattati li avete ricattati che ancora non sapendo quello che avrebbe detto la Saracchiani nel pomeriggio diceva fino al 30 settembre in carica dopo arriva il commissario della regione la provincia diventa commissario cioè questa era l'impostazione lei però non ha detto questo e il consigliere comunale anche non credo che possa fare il commissario del consigliere comunale un disastro io dico che l'idea era di portare avanti non è che vai il consigliere della provincia finisce la provincia fa il commissario però la Polo ha detto che arriverà un commissario dalla regione me l'ha detto stamattina certo fanno la norma apposita se non dovrebbe riscare da consigliere comunale le faranno una norma regionale se no cade da consigliere comunale se è commissario della provincia in cui è conglobato il comune di Trieste fa il commissario del consigliere comunale non ha più competenza non c'entra niente questa è una cosa se posso dirti è una cosa che non riguarda sicuro è una cosa che è stata fatta e discursa e che era già nella legge già precedente e qui c'è quando nel basso la Polo pensava minimamente di discutirsi per cui non c'entrava proprio niente farà il commissario perché stava nella legge originaria quindi farà il commissario della provincia e il consiglio comunale a Siena ma questo non so non so dirti posso rispondere io a conoscere la Polo De Carli forse conoscendo la Polo lo dico io perché faccio parlare la Polo secondo me la sua idea non è questa secondo me la sua idea non era questa abbiamo parlato proprio questa mattina di questa cosa cosa ha fatto Di Piazza oggi? vediamo un grande un grande guarda veramente cioè guarda sta in attesa di presentare la nuova giunta della prima seduta del rinnovato consiglio comunale la cui data non è ancora stata fissata ma che dovrebbe tenersi entro la prima decada di luglio Roberto Di Piazza non perde tempo in questi giorni sembra intenzionato a rinforzare ulteriormente i contatti con quelle periferie che hanno contribuito decisamente alla sua rielezione abbiamo fatto questa mattina una riunione importante parte il bando per Melara è una cosa molto importante ci sono delle risorse importanti potrebbero arrivare decine di milioni di euro l'intervento della nuova giunta su Melara non si ferma il bando in breve partiranno alcuni lavori di ristrutturazione concordati con l'Ater per risolvere una serie di problemi già da tempo segnalati dai cittadini di piazza però si è messo subito al lavoro anche per affrontare il problema alla base delle sollevazioni della superficie di piazza unità posizionando una serie di plotte che entro un certo periodo di tempo paradossalmente consentendo alla piazza di espandersi in qualche modo garantiranno una sistemazione definitiva della zona abbiamo inventato con gli uffici di aprire questo giunto e di sistemare delle plotte per i prossimi mesi di ferro in maniera che vediamo cosa fa la piazza allora portate pazienza non sarà bello da vedere ma sicuramente stiamo studiando una soluzione per evitare i danni che abbiamo avuto in questo periodo allora da una parte il bando per Meliara dall'altra parte questo pre-intervento in piazza unità perché diciamo quello che è stato detto dai tecnici in maniera molto insomma che gergale è che la piazza deve lavorare assestarsi e poi permettere di capire come a quel punto rimettere a posto la situazione perché praticamente anche con l'espansione con il caldo con il freddo ci sono dei movimenti dicono i tecnici che determinano un allargamento della piazza anche di 20 centimetri questo mi è stato detto non da di piazza ma dei tecnici quindi si cerca di capire come dopo come dopo intervenire su Meliara su Meliara mi pare che prenda quello che erano già progettiche era roba vostra erano già avviati per cui bene che li faccia sono contento Grilli posso dire su Meliara vai come Meliara voglio dire sì questi teoricamente questi 15 milioni mi pare che siano destinati a Meliara teoricamente dovrebbero esserci però bisogna fare un concorso bisogna presentare il progetto alla presidenza del Consiglio dei Ministri la presidenza del Consiglio dei Ministri avrà il compito di esaminare i progetti e poi sulla base del progetto che sarà più o meno buono potrebbero essere destinati a Tristo un certo importo per cui i tempi sono due anni mi pare e gli uffici tecnici dovrebbero essere attivati da subito però è un concorso per cui non corrisponde al vero che Trieste avrà 15 milioni di euro dipenderà quindi per due volte Cosolini ha mentito no adesso non andiamo si ha detto delle inesattezze dai ma quindi come dire siete d'accordo su questi tempi non siete d'accordo perché i cittadini di Milara hanno visto di piazza è ritornato lì gli ha spiegato questa cosa poi se mi dite che ci vogliono due o tre anni appena per partire qualcuno si può anche come dire imbuffalire di quelli che hanno ma poi bisogna anche fare le gare dopo esatto e la gara porta ulteriori altri 5 bisogna perdere anni o almeno almeno speriamo che i tecnici del comune facciano un bel progetto mentre l'altra parte fa parte di questa nuova norma questa nuova legge che ha fatto cosa era già previsto cioè cosa potrebbe partire prima ci sono alcuni miglioramenti nel dettaglio dico la verità non li conosco però c'erano alcune cose che hanno già state definite con gli uffici e hanno già inserite nella lista di programmi di intervento specificatamente ovviamente non lo so però questa parte questa iniziativa parte poi ci sono ulteriori iniziative e miglioramenti sicuramente questo è possibile tra l'altro appunto questa legge che ha fatto adesso che sta preparando il governo Renzi prevede proprio un intervento di 3 miliardi specifico per le periferie che tra l'altro l'abbiamo detto inizio trasmissione è stato lì dove Di Piazza è prevalso nel ballottaggio questo è un dato perché nel centro città c'è stata una lotta quasi ad armi pari delle zone più vicine al Carso c'è stata non ricordo esattamente il ballottaggio ma il primo turno sicuramente a prevalso Cosolini nelle periferie però per periferie siccome certi non si sentono periferie poi Roiano è una zona anche periferica dove ha vinto Di Piazza io penso che però sia giusto fare un'analisi di questo tipo sul voto primo vale per tutti i partiti che sono uguali il 50% delle persone non è andata a votare su questo questo è un problema all'interno poi del voto del secondo turno la differenza è di 5 punti vuol dire che a macchia di rapardo diciamo così ma la presenza sia della in questo caso del centro-destra sia del centro-sinistra come dire non dico che sia un equivale ma è presente cioè non è che c'è dice 70 30 ci sono anche delle zone delle vie dove Cosolina è stravinto ma per tutti all'interno 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 anche e il discorso della borghesia la borghesia ha votato la sinistra vedi i rumi e compagnia quelli che sono il sistema oggi della sinistra che porta voto ma all'interno della povera gente non vota c'è i macchia di rapardo su questo poi c'è il dato più omogeneo diciamo che quello di Servola è della settima sosprezione dove la differenza di voto è di 4 mila voti che sono praticamente i 4 mila voti quindi traudice l'impianta ha vinto a Servola così come vinse a Servola se ricordo bene Corosato conferma l'unico presidente di circoscrizione che aveva il centro destra era quello di Servola Menis perché parliamo tanto dei due riflessioni territoriali invece del 5 stelle scusa perché spari quando? no siccome spara degli spot e siccome se il giorno il PD sta sparando allora meno 97 meno 96 fammi il conto di oggi che per sé è un gelo vivo è scritto esattamente cos'è l'accordo non ha detto chiudo in 100 giorni la ferie ricordiamo poi che al piccolo ci sono i direttori gli editorialisti certo e la gente che lavora ma l'ha detto no no diciamo che l'ha detto anche la gente che lavora sono i giornalisti che ogni giorno si fanno un mazzo come sottoscritto vanno sul campo quindi ma no Rumiz no Rumiz parlando dei giornalisti dei colleghi ah no pensavo di Rumiz ma il giornalista cos'è Rumiz ma che giornalista cos'è Rumiz un politico che scrive su un giornale un giornalista cosa in Italia cosa è un miracolato scusa aspetta sono una domanda quanti soldi prende dal comune il prossimo spettacolo che fai in Piazza non ce l'hai fatta la delibera non ce l'hai anche tu no io non ce l'hai quella seguita che giunta non ce l'hai a me sembra di sì non so dirti no vabbè noi vediamo fra qualche giorno non so dirti di uno spettacolo di Rumiz un giornale con ma tu ne mangi politico no non parlo di te parlo di questi signori ci sono anche 5 stelle un attimo stimate dal punto di vista giornalista in Italia o Streghietta abbiamo letto cosa ha scritto a dare delinquenti a tutti cioè lui si permette di dare delinquente anche durante il giorno delle elezioni ma voi avete avuto in campagna elettorale come vostro ma è un opinionista cosa c'è ma un opinionista eh sì ma non c'è trenta voi invece avete avuto un vostro stargato in una vostra manifestazione è invitato uno che ha offeso tutto il resto ma dai che ha offeso ma però guarda veramente finita la campagna elettorale basta va bene no ma inizio 5 stelle non puoi 5 stelle come sono andati i neri omi in centro io onestamente confesso parte di mia ignoranza su questo tema dopo questa ode ai giornalisti sì ma per noi evidentemente il tema vediamo sempre c'è chi lavora poi io la dico così chi vuole capire il tema il tema della fariera per noi è stato in termini di voti e probabilmente non non influente cioè non ci ha non ci ha vantaggiato come invece speravamo soprattutto non si è vista una differenza a Serbola e su questo noi ci ci aspettavamo qualcosa qualcosa di più probabilmente non è non è arrivato il messaggio il messaggio corretto è colpa colpa nostra sicuramente non di chi di chi è andato a votare sul fatto della della stensione è chiaro è preoccupante nel senso che da un certo punto di vista può essere che sia dovuta anche alla mancanza di una offerta di un'offerta politica soddisfacente per gli elettori dall'altro però faccio anche notare che la data scelta per il voto data scelta dalla Seracchiani a livello regionale da Renzi a livello nazionale è stata una scelta perdente sotto questo punto di vista cioè perdente nel senso che non ha facilitato la partecipazione al voto è stata voluta anche perché a differenza delle altre tornate elettorali si è votato solo domenica e non a lunedì e mettere una tornata elettorale solo la domenica alla fine di un ponte sicuramente non ha non ha facilitato e credo che a Trieste questo si è visto più di ogni altro siamo così sicuri nel senso che qui faccio una riflessione globale siamo sicuri che il cittadino che non è andato a votare come anche noi stessi forse abbiamo sbagliato come dire è andato in gita piuttosto che aveva oppure ha scelto di non andare a votare in maniera netta come ho detto prima c'è stata una scelta prevalente di non andare a votare perché c'era un'offerta politica che non non soddisfaceva gli elettori però dico una parte è dovuta anche al fatto della data scelta per il voto è poi difficile andare a ponderare le due le due le due questioni probabilmente non non è stata un'offerta politica all'età nel secondo giro molti non sono salti a votare perché nessuno dei due contendenti piaceva loro voi le liste piccole da uno e voi parte del voto cinque le differenze però tra il primo e il secondo non è stato se posso voglio dire un cittadino normale che dice il piccolo ogni tanto eccetera guardate le quattro esatto voglio dire quando vede 11 candidati sindaci quando vede le forze di sinistra sparpagliate su quattro formazionali all'inizio allora no addirittura mi pare 14 o 15 c'è ancora la sinistra no arriviamo lì bravo arriviamo lì arriviamo lì allora voglio dire non so la gente rimane perplessa non so cosa deve dire cioè al di là del fatto che uno può andare in gita c'è proprio un non amore per la politica mi pare che il nostro Ferdinando ha fatto la trasmissione dicendo i 15 o 14 sindaci il cittadino vive in contrasto in contraddizione con la politica e questo spiega in parte anche il successo del Movimento 5 Stelle perché loro rappresentano e sono riusciti a conglobare dentro la loro formazione questa persona per cui è un problema serissimo certo è un problema serissimo che ha toccato anche Trieste ma è vogliuto sai poi da dire anche un'altra cosa ci sono anche quegli elettori che comunque anche se con meno diciamo con numeri inferiori hanno per esempio votato gli indipendentisti però avendone votato tre i partiti indipendentisti non hanno un rappresentante e però se sommiamo i voti di quegli indipendentisti fanno un consigliere comunale che non c'è perché indipendentemente dalle posizioni politiche quelle persone lì magari avevano anche il diritto di essere rappresentate perché più o meno votavano per la stessa idea se gli indipendentisti si presentavano assieme poi però chi era il capolista era un po' dura avevano un consigliere comunale è giusto anche capire che quelle persone lì che hanno votato poi però non sono rappresentate poi c'è un altro tema che Slok era un po' da assistente di studio inconsapevole ha lanciato dove è finita la sinistra dove è finita rifondazione Selle e quant'altro perché tra l'altro la vittoria di Piazza ha fatto sì che non ci fosse nemmeno rappresentante di Selle in consiglio comunale che in caso di vittoria di Cosolini invece ci sarebbe stato mentre Sossi e Furlanic erano già fuori gioco al primo turno sentiamo sentiamo Issa Furlanic a Sveglia Trieste l'altro giorno Presidente di uscita di consiglio comunale comunista DOC Bisognerà poi ripresentarsi uniti alle prossime elezioni anche quelle regionali? c'è da ricostruire completamente una sinistra in questo paese spiace dirlo ma con con la politica attuale i programmi contano poco nulla e contano le persone io credo anche se sono contrario a una scelta verticistica perché credo che le cose debbano essere costruite dal basso ma onestamente vedo questo processo in Italia molto difficile la sinistra dove ha amministrato ha dimostrato di poterlo fare bene penso appunto a Napoli dove De Magistris è stato confermato a furor di popolo e spero possa essere proprio lui quel leader che possa risollevare la sinistra italiana che non può prescindere però da un'unità di intenti è impossibile ormai già per gli addetti ai lavori raccapezzarsi in una situazione in cui i partiti nascono come funghi le sessioni sono all'ordine del giorno ci sono in Italia credo 5 o 6 partiti comunisti ci sono altri 5 o 6 partiti che si considerano alternativi o a sinistra del PD che non vogliono neanche dialogare con il partito democratico tutte queste forze dovrebbero sostanzialmente unirsi poi si deve si vedrà con che sistema raccomando queste le parole di Izzoc Furlanic presidente uscente del consiglio comunale di rifondazione comunista di fatto una presentante di questa parte che è stata per tantissimo tempo molto importante anche percentualmente nella città di Trieste e in provincia non c'è non potevano allearsi col PD perché di sinistra il PD la guida sinistra potevano allearsi tra di loro francamente uno che è di sinistra con sta gente non ci va ma dopo quello che è successo basta vedere Marino Sossi tutto si potrà dire di Marino meno che non sia una persona per bene e che non abbia dei principi evidentemente se lui ha ritenuto che col PD non si poteva stare è perché va contro tutti i principi della sinistra e ha ragione però il cittadino non ha pensato voi pensate sempre che il cittadino è cretino e vi ha punito anche questa volta dicendo che il cittadino non ha detto quello che dici tu io proprio ho rispetto dei cittadini e infatti Weber e Rumitz l'hanno di chiusciato un critico io vorrei dire siccome sono stato sul tavolo della sinistra a curare anche i problemi il programma eccetera per parecchio tempo vuole dire non è stato possibile superare determinati punti che noi avevamo anche posto cioè non è stato superato il problema del simbolo non è stato superato il problema del candidato sindaco perlomeno ecco come doveva essere questo sindaco e non è stato superato il problema delle UTI quindi non è stato superato nessun problema in poche parole quelli che sono stati i paletti voglio dire che sono stati posti da noi quella volta eravamo solo socialisti perché poi la lista si è costituita dopo non sono stati superati ognuno è andato per gli affari suoi per un motivo o per l'altro uno dei problemi era proprio la feriera per cui tutto sommato a me dispiace che delle persone onorevoli voglio dire nel senso di purezza politica di come pensano di quelli che sono i loro programmi si erano state escluse da questo da questa tornata elettorale c'è da dire però che un tempo io mi ricordo ero piccolo però nei Rioni c'era la festa dell'unità per dare l'idea di un elemento aggregativo di sinistra non di centro-sinistra di sinistra che come dire dava il polso della comunità di sinistra sul territorio è qualcosa che come dire qualcuno può dire fuori dal tempo qualcuno può dire sul passato però come dire quel tipo di rapporto poi adesso i soldi li prendono dalle primarie vengono qui i due eurini e prendono il numero di telefono di chi va a votare alle primarie e poi lo chiamano non parlo del PD vai e dammi 5 nomi parlo del PD parlo della sinistra ma io lo si in coro hanno la festa dell'unità ancora certo però diciamo questa ramificazione questa presenza così articolata sul territorio non c'è più questo è vero è una crisi di grandi partiti c'è stata per tutto e non da meno nel PD tanto è vero che il numero di iscritti ai partiti tutti è un numero assolutamente rilevante rispetto a quelli che erano iscritti ai partiti di una volta e credo che ci sia la necessità anche questo voto complessivamente che è avvenuto a Trieste ma anche in altre parti d'Italia vale anche per la Lega Nord Davarese dove ha perso dopo 20 anni di governo però non ha perso ma non ha perso scusa se è inutile perdere fare polemiche voi non avete gli iscritti più la fatta lei la polemica questa volta voglio dire una cosa che riguarda tutti e che riguarda in realtà la incapacità qua sta il 50% che non va a votare e che secondo me non è perché c'era il 2 giugno non va a votare per una scelta di una sfiducia nella politica e nella capacità della politica di rispondere ai bisogni delle persone e i bisogni se posso solo una battuta i bisogni delle persone sono urgenti perché soprattutto quelli che stanno male hanno bisogno di una risposta immediata la politica da risposte più e questo viceversa è quello che deve cambiare l'urgenza di dare un posto di lavoro al disoccupato di cercare di finire con i voucher di cercare di dare la pensione in tempi certi di riuscire ad avere l'assistenza di riuscire di riuscire di riuscire di riuscire un minuto vanno cambiate le politiche ma lo dite proprio voi che avete fatto gli ultimi appalti con dei ribassi tagli ma come non è vero l'ultimo appalto è stato giudicato con 3 milioni di meno ai dipendenti danno 150 euro al mese chiedo scusa abbiamo avuto 3, 4 ma come non è vero ma dili alle operatrici che le lavorano il portierato il portierato in cui paghi da 175 euro al mese allora prima di fare prima di fare delle politiche prima di parlare delle politiche del territorio noi dobbiamo guardare in casa nostra ma non dirmi che non è vero è vero l'appalto è stato fatto quell'appalto giusto per finire dopo da 24 milioni se lo giudicato a 21 e dove hanno rispogliato sul personale? è stato fatto sulla base di un criterio che esaltava la qualità del servizio e riduceva come è stato l'appalto che ha dato meno lascia finire dopo vi dire che da meno incidenza scusa che da meno incidenza scusa che da meno incidenza al costo poi è vero e come sai gli appalti lo fanno i dirigenti non lo facciamo noi poi è come è vero il risultato è stato quello che ti ha voi infatti il risultato è stato quello che mi ha detto stop un secondo un secondo ma è finita sono le 23 dobbiamo chiudere ultima ripresa sul ring è finita qui ci rivediamo domani sera sempre su Tele4 quello lo dice Di Piazza io do la buonanotte a tutti a tutti quanti a tutti a tutti gli amici di Tele4 Luca sta buon buonasera ciao domani grazie a tutti Grazie a tutti.